Sto bene, sono finalmente pronto a uscire con questo tape che è stato fatto in tempi piuttosto frenetici. È stata un po' un'idea dell'ultimo momento, però è stata una soddisfazione riuscirlo a chiudere sia perché è un lavoro dove comunque ci vedo un mischilla in forma e dall'altra è stata una bella dimostrazione a me stesso di metodo sul lavoro. Riuscire comunque a chiudere un progetto in un mese e mezzo mi ha dato una bella dose di fiducia. Avevo un vecchio freestyle sul computer che poi in realtà ho adattato e ho aggiunto delle barre a quel freestyle perché ovviamente non era di 64 battute, era di circa la metà e quindi diciamo che ho unito un po' le due cose modificando qualcosa che magari poteva sembrare anche vecchio se vogliamo. Ho fatto questa con Drouf che sono i produttori con cui lavoro credo più spesso e che comunque mi affiancano nel mio percorso ormai da parecchi anni e con cui soprattutto ho un bel rapporto anche proprio dal punto di vista umano e personale. È un bel 64 di quelli che rompono le palle alla scena. Allora, cosa ho portato in più mi sembra presuntuoso, posso pensare magari a cosa ho portato di diverso. Diciamo che sono sincero, praticamente quasi tutti quelli che ho sentito mi sono piaciuti, quelli che ci sono stati prima di me. C'è stato qualcosa che magari mi ha folgorato meno però in linea di massimo ho sentito delle belle perle. Mi verrebbe da dire questa attitudine qua proprio che rompe le palle, che punzecchia, che provoca, che sta roba un po' di dire per forza la verità. L'ho fatta un po' una cosa mia diciamo negli ultimi anni e forse filtra anche attraverso questo freestyle. Però dai sono onesto, ripeto anche gli altri, comunque non è che diciamo i fiori, sono stati belli e pesanti anche gli altri. Ma che mi ricordi mi è piaciuto il primo dei due che ha fatto Marra e quello di Lazza. Poi come ho detto prima anche gli altri comunque meno male ho trovato più o meno tutti in forma, però questi due sono quelli che mi sono piaciuti di più. Mi piacerebbe un 64 bar di Jake Lafuria. Sono un po' di parte ovviamente, ho fatto anche un disco assieme, però è uno di quelli che quando rappa, rappa. Rappa con la R maiuscola e quindi spero di vederlo presto in questa impresa. Allora in realtà sono in un momento un po' difficile per quanto riguarda la mia parte fan barra ascoltatore, perché c'è poca roba che mi entusiasma, sono sincero. È stato il disco DJ Cole, che comunque è uno di quelli che rappa sempre bene. Lui e Kendrick sono quelli diciamo un po' della, non era il new school però diciamo no, quelli un po' diciamo ancora freschi no, che comunque hanno sempre fatto della roba super rap. In questo momento sto ascoltando l'ultimo disco di Lloyd Banks, però non è che sia proprio un giovincello, comunque è quello che ammiro di più nel mondo, mi piace. Mi piacerebbe vedere tornare Drake per esempio, Drake io l'ho amato quando faceva comunque il rap un po' meno come pop artist, quindi mi piacerebbe vederlo tornare con un disco forte rap. Io vorrei che la gente capisse che Amy Schilla è un lato di me enfatizzato al massimo, che io non sono così 24 ore su 24 durante la mia giornata, perché è facile magari senti una rima provocatoria, detta in un modo provocatorio, quindi assolutamente non politicamente corretto, o leggi un tweet sparato alle tre di notte ubriaco e pensi che io sia così no, in realtà sicuramente magari posso pensare anche quella cosa, però la cosa che mi viene detta più spesso quando la gente mi conosce, oh pensavo fossi molto, ti pensavo più stronzo o più no, in realtà sei una brava persona, sei un bravo ragazzo no, e quindi vorrei che filtrasse un po' più questa cosa in realtà. Cioè io a differenza di molti non gioco tanto, cioè a me non piace fare il bad boy, non so come dire no, cioè preferirei sembrare invece una persona apposto perché mi sento così, però la mia musica, la mia attitudine non è da bravo ragazzo no, perché ripeto la cosa che mi esce quando faccio musica è quel lato lì, il peggio di me se vogliamo, il meglio è il peggio di me e questo a volte mi fa apparire come stronzo, saccente, presuntuoso, arrogante no, tutte cose che in realtà possono anche far parte della mia personalità, ma sono una piccola parte della mia personalità e essere ecco catalogato come un arrogante per esempio è una cosa che non mi piace perché io odio gli arroganti nella vita, quanto non era più mi piace, nella vita gli arroganti non mi piacciono e quindi vorrei arrivasse questo. Ketha Music 3 è stato un po' un punto diciamo, un chiodino sulla mappa che ha chiuso, non chiuso il cerchio perché mi piace pensare che farò anche il 4 più avanti no, però diciamo che è il tape che ha raccolto quello che gli altri due hanno seminato, metaforicamente parlando, perché ho fatto il primo capitolo comunque in un periodo in cui il rap era totalmente un'altra cosa, l'ambiente era totalmente un'altra cosa, io ero un'altra cosa perché ero un rapper emergente sconosciuto, il 2 diciamo ha un po' fatto il passaggio di testimone, ha portato avanti quel pensiero, però anche lì non c'era ancora un mercato, sarebbe arrivato un anno dopo questo esplua proprio dell'hip hop, della trap, il 3 arriva in un momento di maturità dove io comunque sono tornato forte proprio nell'immaginario del rap perché c'è anche da dire che ho fatto un periodo in cui ho oscillato un po' tra il rap e il pop e invece in questo momento qua la gente comunque mi reputa un buon rapper, io ripeto mi sento in forma, i pezzi comunque forse per assurdo è il più rap dei 3, forse il primo era meno rap di questo perché ho causato un sacco di roba con i sample e questo ci ha causato anche parecchi problemi tra l'altro perché per sbloccare non ti dico e quindi sono fiero, sono fiero perché è un disco giusto al momento giusto, è uscito in estate, comunque in un momento dove tutti fanno il reggaettone, le canzoni per la spiaggia, io invece ho fatto un disco comunque per chi ama questa roba, penso che sia una bella prova comunque di amore verso questa cultura e verso questa musica, però allo stesso tempo l'ho fatto divertendomi, cioè senza assolutamente pensare alla classifica, volevo fare un po' di rap con lo spirito che mettevo nelle prime cose magari, infatti mi sono divertito parecchio, ho coinvolto tutti quelli che sono i miei amici, o comunque i rapper e gli artisti che stimo perché sono anche per esempio Rosvilla che non è una rapper, e niente, spero che la gente lo apprezzi, che capisca la vibe e che rimanga nel tempo soprattutto. a Grazie a tutti.